Arrivo del giro della Val d'Aosta alle Komb, Massimo Rosa grandissimo protagonista quest'oggi, maglia degli scalatori consolidata e un bellissimo secondo posto. Sì, diciamo che ci tenevo a fare bene, è una tappa adatta a me dato che le altre sono veramente da scalatori puri puri puri, mentre vedo che nel confronto con questi grandi non riesco ancora, e devo mettermi in gioco dal primo chilometro, così abbiamo fatto, è una squadra fantastica, basta vedere l'ordine d'arrivo, basta vedere come è andata la corsa. No comment, adesso abbiamo anche consolidato la maglia degli scalatori e vedremo di portarla ad Alba. Vanuc era proprio impossibile da seguire quest'oggi nel finale? Aveva qualcosa in più, io ci ho provato ma non volevo fare alcuni giri, ero ancora lontane, passavano ancora 20 km e abbiamo deciso di andare a regolare io e Alessandro. Le tassi sono più soddisfatte sia per me che per lui nel primo anno, ci vuole, per la squadra. Domani tappa durissima con arrivo a Cervini, ha tanti punti sui GPM, si deve provare a difendere questa maglia a questo punto. Adesso penso a godermi questa giornata e a recuperare, poi domani ci penso questa sera.